Ciao a tutti, oggi sono con Fabrizio Fioramonti, agente immobiliare da 22 anni, quindi possiamo dirlo che ne abbiamo viste abbastanza. Un qualche giorno fa abbiamo fatto un video relativo a alcuni chiesistori importanti, perché effettivamente sono stati molto importanti quello che tu hai fatto, le tue azioni, quello che è stato fatto per portare al successo questa chiesistori. Quindi affiancamenti di supporto operativo a un avvocato. Allora, quanto la figura dell'agente immobiliare sia di supporto a liberi professionisti come avvocati, commercialisti e quant'altro, veramente. Oggi con questo video vorrei, diciamo così, sottolineare quanto può essere strategico anche per un geometra, un architetto, un'impresa di ristrutturazione. Mi piacerebbe farvelo raccontare direttamente da Fabrizio, perché? Perché quello che è successo, succede e mi auguro possa succedere tante altre volte, perché è anche in ottica poi di win-win, no? Sì, sì, di essere tutti vincenti e di fare un'ottima sinergia, sempre nell'ottica ovviamente di dare un ottimo servizio e avvantaggio poi dei nostri clienti, ok? Questo è sempre il fulcro, il motivo di tutto. Diciamo che io lavoro moltissimo con questa categoria, mi piace lavorare con questa categoria, anche perché tra professionisti si ottiene sempre un ottimo lavoro. Parlando della mia vita di tutti i giorni, il lavoro, no? Si alza al mattino, si comincia a fare le cose. Io do, penso, dati mi danno ragione, un buon servizio a chi fa questo mestiere, perché spesso loro hanno delle loro conoscenze, spesso dei rapporti che durano nel tempo, delle persone che hanno deciso di comprare una casa magari da ristrutturare. Ok? Partono proprio con questa idea e si rivolgono al loro amico, al loro tecnico di fiducia e dice aiutami a trovarla che poi dopo tu le ristrutturi, ok? E parlando di business ovviamente, di aiuto a queste persone, l'interesse di una persona che è abituata a collaborare non solo con i propri immobili ma anche quella con tanti altri colleghi, significa trovare poi il mobile per queste persone in tempi veramente molto veloci e che significa poi anche per il professionista avere un business, un business immediato e anche dare un ottimo servizio professionale e fare una gran bella figura anche con il proprio cliente, ok? Anche perché poi dopo ne faccio vedere tre, quattro, cinque, tra quelle sceglie, un po' come si vedono i programmi in America, no? Sì, sì, no, è così. A volte sono questi programmi televisivi, però la mia vita è di tutti i giorni, ok? Questo video nasce proprio da... Dall'esperienza, un po', del lavoro. Ecco, da un'esperienza, ecco, senza dover fare i nomi o meno, però voglio dire questa coppia che prima di cercare casa si rivolge al proprio tecnico di fiducia, no? Mi raccontavi, anche per capire quelli che possono essere i costi di ristrutturazione, no? La scelta dei pavimenti, l'impianto, non impianto... Se ci pensi anche a chi cerca, per esempio, una casa in legno, un aspetto che fa fatica a trovare il lotto di terreno, magari possiamo aiutarlo a farlo e poi dopo riusciamo a aiutare in questo, ok? Dopo c'è tutta la ristrutturazione, i contatti, eccetera, e quindi sono tutti lavori da fare. Come dicevi tu, è win-win, siamo tutti vincenti, i clienti sono contenti, ovviamente, perché gli troviamo una soluzione subito. Il professionista ovviamente lavora, perché spesso gli fa la ristrutturazione, anzi, sicuramente gli fa la ristrutturazione. Io ho fatto il mio lavoro e abbiamo fatto un'ottima partnership. Quindi se sei anche tu un professionista, un geometra, eccetera, possiamo lavorare veramente bene insieme e produrre un ottimo risultato, come mi capita spessissimo, ok? Perché poi sono le sinergie che producono un ottimo risultato. Cioè anch'io da solo, come tecnico da solo, fa fatica. Ma due professionisti in due settori diversi, ottengono, producono veramente un grande risultato, un grande servizio, ok? Questo è il segreto del team, adesso ho avuto questa parola, ma il grande servizio arriva dalle collaborazioni, dalle sinergie. E io sto andando in cerca di queste, ok? Dei professionisti che hanno dei buoni contatti per fare veramente, a fare insieme, a vantaggio delle persone. Perfetto, quindi non ci resta che salutarti, dicendo se sei un geometra, un architetto, uno studio di ristrutturazione e vuoi, diciamo così, importare un proprio, diciamo così, un ulteriore servizio da dare ai tuoi clienti, Fabrizio Ferramonte, agente immobiliare Bologna e provincia. Sì, Bologna e provincia, assolutamente. Trovate tutti i contatti qui nel posto, naturalmente, contattatelo. Facciamo sinergia insieme, ecco questo. Poi chiaramente io i contatti ce l'ho in ogni dove, cioè, se sei per una casa al mare, non vengo io personalmente, però ho una persona del mio team che può aiutarti anche in quella direzione, ovviamente, quindi, però la mia attività principale è Bologna e provincia, ok? Quindi sono sicuro che possiamo fare un ottimo lavoro, l'importante è lavorare bene e impegnarsi tanto. Creiamo sinergie. Ciao, alla prossima. Ciao.